Il potere persuasivo delle serie tv americane, tipo quelle sui cacciatori di serpenti, è talmente efficace che non appena ho visto negli scaffali del supermercato la pinza telescopica raccogli oggetti, l'ho subito comperata. Seppur in Italia non è mai stato avvistato il famigerato mambanero, la nostra navipra si difende bene, con un morto ogni uno o cinque anni. Soprattutto in primavera, quando i maschi si danno da fare per cercare nuove avventure amorose e non vogliono essere assolutamente disturbati. Ritrovarselo sulla sdraio preferita in giardino ed immobilizzarlo con la pinza prensile potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Intanto per non arrivare impreparato al terribile incontro, continuo ad esercitarmi con la pinza raccogli oggetti, ad esempio raccogliendo facilmente piccoli oggetti metallici grazie alla calamita integrata, oppure afferrando facilmente la bottiglietta di cola che ho dimenticato sul tavolo direttamente dalla poltrona, oppure prendendo grazie al piccolo gancio integrato la gruccia più in alto nell'armadio, oppure grattando la testa del gatto. Usare direttamente le mani in ambienti non noti non è mai una buona idea, quindi portarselo dietro durante escursioni in montagna o gite in campagna potrebbe perlomeno salvarci da situazioni spiacevoli. C'è sempre un rospo a fare la siesta in mezzo a un cespuglio. Il nonno intanto se ne è appropriato per prendere facilmente le scarpe ed usarlo come calzascarpe, il tutto senza sforzare la schiena. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto! Grazie per la visione. Ciao! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti!